Una cravatta storica per un momento storico per l'economia italiana. Quando si difende il proprio paese non si fanno calcoli. Io sono convinto, lo dico con tutta la prudenza che mi contraddistingue, che la storia è con noi. Così il presidente del Consiglio, Conte, presentando il programma da 750 miliardi per le imprese. In un momento storico per il paese, Conte ha indossato una cravatta realizzata per i 150 anni della Repubblica Italiana da Ugo Cilento, nota Maison Partenopea, una cravatta omaggiata nel segno dell'Unità Nazionale e come augurio di uscire quanto prima da questo periodo più forti di prima, spiega Ugo Cilento. Questa cravatta è stata realizzata e dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia, nove anni fa. Ho deciso di rieditarla in quanto la bandiera italiana è simbolo di unità nazionale, di forza e di tradizione. Ho avuto il piacere di omaggiare il Premier in questo momento così drammatico nazionale, che non si vedeva dal dopoguerra. Sono molto contento che il Premier l'abbia indossata durante il DPCM nazionale e durante la trasmissione della BBC. Sulla palla principale vi è la bandiera italiana, ma a differenza delle cravate tradizionali, che oggi vengono prodotte con la bandiera italiana, la differenza è che la cravatta Cilento porta la bandiera decentrata sul lato destro della cravatta. Sul codino invece vi è la bandiera italiana e il numero 150 a segnare l'anniversario.